salve da michele expert oggi mezzi paccheri con l'antuglia nostra calabrese adesso la pasta è stata già siamo così in parte aggiunta nel sughetto con l'antuglia si mette anche la cipolla all'inizio si fa rosolare anche insieme poi dopo alla all'antuglia poi ancora mettiamo la salsa di pomodoro e poi i paccheri ok poi adesso senza pensarci troppo facciamo un po girare ci diamo un po senza farla saltare troppo liquida non conviene e si completa il piatto aggiungendo una bella quantità di formaggio queste formaggio locale se avete pecorino ancora meglio ma questa è anche un grande formaggio locale nostro ecco abbondiamo l'antuglia a tutti gli aromi che servono non c'è bisogno di mettere altro già di sale di pepe di tutto quello che serve ancora un secondo e possiamo spegnere e impiattare ok io adesso si impiatta e si gusta con un bel bicchiere di vino nostro rosso di tipo magliocco ecco